Buonasera amici di incontri, amici di Bergamo TV, una nuova puntata, noi raccontiamo in questi nostri incontri la vita, la vita delle persone, la vita delle persone semplici, la vita delle persone importanti, la vita delle persone comuni e anche di quelle persone straordinarie. Nel caso questa sera di una persona che è sia semplice sia straordinaria insieme, abbiamo con noi un campione vero, assoluto, una leggenda anche se si abusano di questi termini un po' enfatici e so che non sarà d'accordo, abbiamo Felice Gimondi, grazie mille. Buonasera a tutti. Mi piace già subito vedere questo sorriso che era sempre contraddistinta, quando era un campione sulla bicicletta e adesso che è invece un campione nella vita, questo sorriso semplice è partito da Sedrina. Sedrina, sì, 15 km da Bergamo. E per tutti quelli che invece non conoscono questo, che ragazzo era Felice Gimondi quando portava i calzoni corti e non da ciclista? Che famiglia era la sua? Ma la mia famiglia era la mamma a postina e il papà aveva una piccola impresa di trasporti, tanto è vero che il papà era stato dieci anni in Brasile per cimolare un po' di soldi, ho comprato due o tre cavalli, dai cavalli è passato il camion e ho vissuto totalmente il passaggio. Mi ricordo il primo camion addirittura un BL che andava a legna. A legna addirittura? Aveva la cisterna su un lato e poi da lì, beh dopo è diventato il camion più grossi, ne avevamo quattro. Che famiglia era numerosa, un fratello, quanti? Due fratelli, uno più anziano e l'altro meno. Il mezzano? Sono mezzo insomma. Il primo è quello che fa da prepista, il terzo invece è un po' quello coccolato, quello di mezzo doveva essere forte da per sé, perciò è come aveva iniziato ad andare in bicicletta, quella la prima biciclettina che gli hanno comprato? Oppure la rubava quella degli amici? All'inizio usavo un po' anche quelle degli amici o di chi conoscevo, o la bicicletta da uomo, infilava la gamba dentro perché non ce n'era, c'erano pochi soldi anche. La prima bicicletta è stata un'ardita rossa, ero piccolissimo perché non so, era il premio perché ero stato promosso alle terze elementari mi sembra. Una bicicletta allora era già un successo, tutti avevano una bicicletta, nel paese specialmente. Dopo il papà continuavo a insistere che voleva questa bc a corsa, però sul ghen era mia. Non c'erano soldi, come dico a camminare, non c'erano soldi. Allora il trasportatore aveva portato su un trasporto a Cremona mi sembra, crema di sabbia del Po perché allora per finire le case usavano quello, non usavano il gesso come adesso. La stabilitura era la sabbia del Po, la stabilitura si chiamava, era adesso un esperto di questo. Erano tre mesi che questo non lo pagava e fa vieni con me che se mi paga ti compro lo bici. da sabbia, questo ho pagato, ci siamo fermati a Villa Dalmè che c'era un ciclista di Sedrina che conoscevamo e ho preso una bicicletta usata. Che bicicletta che marca era? Allora c'era la galla. Era, no, erano mafioletti, proprio prodotto dal ciclista lì. Che poi per andare a casa a Villa Dalmè a Sedrina avevo sui zoccoli perché allora ho dovuto togliere i zoccoli per poter infilare i punti a piedi. Tanto che l'albero degli zoccoli, lì invece che mondo, com'è distante quel mondo che ha fatto, aveva scritto il mito senza fine però abbiamo anche fatto un'altra grafica che gran corsa che è la vita, la vita è davvero una gran corsa. Quel ragazzo semplice ha cominciato, quando si è accorto di essere bravo ad andare in bicicletta? Io vado veloce. Poi hanno costituito una piccola società proprio la Sedrinese dove eravamo in 5-6 i ragazzi con la voglia di fare le corse ma direi che dalla Sedrinese ho imparato molto, soprattutto perché non c'era la pressione e fa risultato. Ci trovavamo il mercoledì perché usciva tutto ciclismo dove indicava tutte le gare della Lombardia, anche in tutto il paese, si decideva dove andare. Io in prevalenza cercavo di scegliere dove c'era un po' salita, perché mi arrangiavo discretamente. E di Sedrina che ce le salite lì, un green pearl come dicono i fratelli. E da lì ho cominciato, all'inizio pensavo di poter cominciare a fare qualcosa, non solo la massima aspirazione, potrebbe essere una maglia azzurra. Dopo invece pian piano sono andato avanti. Chissà che soddisfazione, anche per il papà era una soddisfazione, era un appassionato di ciclismo, il papà allora era come il calcio. Un appassionato di ciclismo anche perché noi con i camion, mi ricordo quando c'era in Lombardia, mettevamo sugli archi col telone sopra, le panchine, si partiva alle 3 del mattino per andare sul Ghisallo. A vedere i scalatori di Ghisallo. E chi erano? Loro erano da Coppi, Bartali, c'erano loro. Ma Felice Cimondi, era uno di Coppi o di Bartali? Beh, sono stato costretto un po' da essere di Bartali. A costretto, perché Bartali era quello cattolico, quello serio? No, non per quello, perché mio zio che guidava il camion naturalmente come mio papà mi diceva, allora ti porto col camion se tieni a Bartali. Il ginettaccio, era costretto allora. Sì, dopo, per il resto, per essere cattolico, sono cattolico, mi ricordo mia mamma, mattino alle 6, mese prima, dopo tenete i corsi, altrimenti niente corsi. E il rosario la sera si diceva nelle vostre case? Di solito il rosario? No, non tanto, di solito al mese di maggio andavo, al mese della Madonna, ma era un modo anche per uscire. E certo, perché si vedevano anche le ragazze una volta. Il mese di maggio si incontravano, non è che uscivano come adesso, quando diciamo che è cambiato proprio il mondo. Allora Bartali comunque era il suo... Bartali, perché poi alla fine, vabbè sicuramente Coppi aveva più classe, però Bartali era un duraccio, duro morire proprio. Toscanaccio di quel libro. Non volava mai. Però come tipo di corridore, Gimondi era più simile a Coppi o a Bartali? Più a Bartali. Più a Bartali, eh, che non volava neanche. Coppi aveva più classe, poi aveva cambiamenti di ritmo più facili dei miei. io ero un po' un diesel. Eh caspita, anche in questo. Magari dovevo prima fare una salita per carburare, la seconda la facevo meglio. Perciò carburava lento. Sì. Invece Coppi aveva questa capacità. Poi nei ricordi miei della Sedrinese, la cosa bella e eravamo tutti liberi, ognuno faceva la sua corsa. Che tattica negli allievi. Bisogna allevarli così, ragazzi. Ancora adesso? Sì. Se fossi io, dico, squadre di campanile, cinque o sei corridori, ognuno fa la sua corsa almeno fino a under 23. Perché? Perché così tu impari a prendere l'aria in faccia, impari ad andare in fuga, impari a far fatica. E non sempre coperto, sono logiche di capitano. Ma caspita. E dopo si comincia la cosa. Non è vero che un anno, vabbè, c'era un fugo un mio amico. Siamo partiti, mi ricordo benissimo, del patronato San Vincenzo. C'era un fugo un mio compagno. Però è venuto un zappellotto, sono riuscito a toccare gli altri e sono andato dritto. si arrivava a Celana. A Celana. Cioè, il patronato San Vincenzo, Celana, il collegio di Papa Giovanni. Papa Giovanni. E ho preso il mio amico e l'ho staccato perché l'arrivo in salita. Caspita, allora lì c'era già la classe. Ma qual è la vittoria? Se dovessi dire, tornare indietro, di tutte le vittorie che ha fatto, sono tantissime, il Tour de France, il Giro d'Italia, tanti campionati del mondo, la vittoria più bella? Io dico una, ne sceglie una da tenervi nella Vachecca. Qual è la vittoria più bella? Beh, direi, sono tre che hanno lasciato il segno. L'esuberanza del Tour, 65, un giovane al primo anno che va là e non ha paura di nessuno e addirittura va in fuga da solo una volta con la maglia gialla. Poi, tatticamente, l'ultimo Giro d'Italia perché ormai ero considerato un anziano, un vecchietto, la partenza a Catania perché avevo già 34 anni. E quello l'ho vissuto anch'io di persona. Poi, una bella, che la sto vedendo adesso, è la volata a Montjuic. Eppure, guarda, Mert mi ha fatto perdere 999 corse su mille. Quel giorno lì me l'ha fatto vincere lui, ma non apposta. Come mai? Perché ha sacrificato Martens, che è un neoprofessionista, giovane. Io ho capito che loro due hanno parlato in fiammingo. Però ci voleva poco intuire che questo, che aveva già vinto, non so, 450 corse, chiedeva al giovane di tirare a volata. E allora, nel soborgo di Parigi, che era un po' stretta, stradina pericolosa, aveva paura del contropiede suo, mi sono messo a ruota gli ultimi cinque chilometri. Barcellona era? Barcellona. A ruota di Edi, ma non mi sono più mosso. E poi Edi addirittura cercava di fare... ha fatto un buco per farmi passare. Ma io ho detto no, caro, oggi ho deciso che faccio la volata su di te. E quando poi ha chiuso il buco, perché l'ha chiuso lui, avevamo perso venti metri, eravamo già dopo l'ultimo chilometro, torna sotto e fa partire Martens ai 750 metri, la mia volata, la mia volata perché è in progressione. Certo, Disney l'ha detto. Quella è la sua volata. E cosa fa allora di Gimondi? Cerco di tenere il più possibile la ruota di Edi. Poi Edi viene fuori 250 metri, ma vedo che arriva la pedaliera, poi comincia a tartagliare un po', quasi impiantato. Allora ho deciso, sono venuto fuori, mi sono sgomitato un po' con Martens perché... Che era un gran velocista, Martens era molto avvolata. Eh sì, quando lui ha visto che non era Edi, ma ero io, ha cercato di venire al contatto. A quel periodo lì cominciavo a essere un po' più di esperienza anche in pista e sono riuscito io dalla gomitata a lui e ho vinto per 30 centimetri. Ok, 30 centimetri lì, grandissima corsa. Ma questo è Edi Merz, che è dura, il cannibale, no? Chiamato. E anche un po' la storia di tutti, quando si dice, quando il destino è trovare un uomo più forte o comunque un campione come Edi Merz. Che tipo era anche di persona? Era simpatico, antipatico? Ma in corsa lottavamo col coltello in bocca sempre, solo che lui era più forte. Poi dopo era simpatico, stavamo insieme e non so, posso dire a Benevento, lui albergo di qua, io albergo della strada, vado da lui e ci siamo bevuti una Coca-Cola con lo whisky per dire, no? In fondo c'era anche stima. Certo, non era una persona. Nel tempo, piano piano, l'ho subito psicologicamente i primi due anni, quello sì, e soprattutto l'ho subito quando mi ha battuto la prima volta a cronometro, perché il giro che ha vinto lui, la cronometro che arrivava a San Marino l'ho vinto ancora io. Caspita! Lui mi ha battuto al giro di Catalonia, Rosas Figueras, mi ricordo bene che arrivavamo a Costa Brava sul mare per 30 secondi e lì tutta la sera... A rimuginare, come mai, 30 secondi? Sì, avanti e indietro su questa spiaggia, fin quando mi ha detto alle due di notte Ferretti, che era il mio compagno in squadra, dice, Ferretti io vado a letto, vedi te cosa vuoi fare. Grande capitano. Ma è stata la mia più grande delusione, è stata quella lì. Lì, proprio è lì che si è reso conto che Max era più forte, in quella cronometro. Ma dopo ho capito il perché. E perché era più forte? No, perché ho capito, perché era più forte e basta. E basta. Sulla spiaggia è stato meditabondo ma ecco perché bisogna riconoscere quando una persona è più forte. Mi piace anche che un campione come lei possa anche riconoscere e far capire anche agli altri che trovano sempre scuse, no? E ma qui e l'altro e giù. Quando uno va, va, aveva le gambe, aveva colmoni, aveva il cuore. Io andavo là in Belgio perché facevo anche le classiche, facevo tutto. Qual è la gara più difficile? La Paris-Giroubaix era quella più difficile? La Paris-Giroubaix, ma anche Paris-Bruxelles, era una bella gara allora. Era nelle lì delle gare perché ci sono dieci monumenti, chiamiamolo così, Paris-Giroubaix, Paris-Bruxelles, Giro di Lombardia, Giro delle Fiandre. Milano-Sanremo c'era. Milano-Sanremo. E' classica, come si dice. E quando tornavo dal Belgio lunedì, siccome era il giorno di scarico, tante volte andavo su verso la Val Brembana, una baracca così in un posto isolato dove c'era una fontana, mi mettevo lì e cominciavo a riflettere. Cosa potevo cambiare? Eh, le studiavo io però. Non trovavo la soluzione. E quando uno è più forte in quel caso. Però il Tour de France che ha vinto, un ragazzo giovane, la maglia gialla. Il Tour de France ricordiamo che adesso tutto è commercializzato, e cambia tutto. Ma allora il Tour de France, vincere un italiano il Tour de France era una cosa davvero... C'era uscito Coppi, c'era uscito Bartali, però era qualcosa, non so, anche l'emozione che si provava. Forse era anche come spregiudicato, così giovane. Sì, in modo spregiudicato corso, anche perché io non dovevo fare il Tour, perché avevo firmato che avrei fatto un giro solo. Poi dopo arrivo terzo al Giro d'Italia, facendo da collaboratore. Certo, da Gregari, era collaboratore. Poi andiamo, la domenica dopo, andiamo a Castrocarro. La cronometro è una classica di 85-90 km. Primo anche Til, secondo io ho poco. Poi anche Til che era, diciamo, il fenomeno della cronometro. O per chi non lo sapesse, che Til era una macchina, era un motore, era come il cambio della legna di suo padre. No, era il corridore più bello che ho conosciuto io e Jack. Ma qual è mai più bello? Perché era... Bello, ormonioso, in bicicletta, sembrava un pezzo unico lui e la bicicletta. Che bella cosa, vedi che anche gli piacciono le sfumature, che noi magari i profani non cogliamo, non sembrano tutti uguali. Eddie era più forte, però era un po' più... Disordinato, scomposto. Sì, non più di tanto. Eh no, invece... Disordinato quando doveva staccarti, magari. Però invece anche Til era proprio un movimento come un orologio. Allora arrivo secondo lì e stiamo rientrando, ci fermiamo a Dozza, dove abitava Pezzi, il mio direttore sportivo, con i titolari salvarani. E il signor Luigi, che era poi quello più commerciale della famiglia, mi fa... Senti, perché non vai al tour? Eh, perché non vado al tour? Allora abbiamo detto, facevo un giro solo. Ma vedi che stai bene, vai su, fai una settimana, poi quando sei stanco vieni a casa, fai quello che vuoi, qua, là, su e giù. Allora io dico, eh, parlo con mio papà, poi ve lo dico. Ma comunque il papà c'era sempre, eh? Sì, ma io avevo già deciso. Avevo già deciso. Che andavo al tour. E' un'offerta che non si può rifiutare, sì. Eh, a Colonia, mi ricordo, partiva da Colonia il tour, ero là in prima fila subito. Però l'ha fatto partire come collaboratore anche lì, oppure lì era già un mezzo capitale? No, sono partito come collaboratore. Poi, secondo giorno arrivavo a Roubaix, che c'era un pezzo di pavé, e io mi arrangiavo sul pavé. Arriviamo in tre in pista, la prima volta che giravo in pista, arrivo secondo dietro a Van de Kerkhoven. Bene, il terzo giorno che arriviamo alla città di Anchieti, la Rouen, e... Altra fuga, 10-12 km arrivo, ma quelle fughe esasperate dove li avevi sempre lì a 100 metri. Non eri sicuro di andare in porto o no. E allora si usavano i guantini di pelle di daino. Di daino. Sui guantini da una parte avevo segnato i velocisti perché non li conoscevano. Ma per i numeri, perché che sono? I numeri? I numeri. Questo è forte e veloce. E dall'altra a quelli che facevano classifica. Ma caspita. E allora arriva un cavalcavia, passava il treno sotto, partito in contropiede a un chilometro, un chilometro duecento metri, guadagnato venti metri, l'ho tenuti fino all'arrivo. E quel corridore lì che aveva sul guantino era Darigat, campione del mondo. Caspita, perciò non lo conosceva ma era forte. E nel terzo giorno si è capito che lì poteva essere il capitano della squadra allora. No, neanche. Neanche il terzo giorno. Dopo abbiamo continuato. Un bel momento, mi ricordo, si arrivava la Rochelle, sull'Atlantico, pioveva e buca ad Orni. Io ero maglia gialla e mi sono fermato anch'io a aspettarlo. Siamo rientrati ma nel frattempo era nata una fuga. Prende la maglia e va nel Carcoe. Poi si fa Tourmalet e la Bisque e ad Orni e si vede che aveva mangiato qualcosa perché avevano fatto i trasferimenti in treno, è stato male di stomaco, poi c'erano 40 gradi. E perciò spianta. Si è ritirato. E il destino però anche lì. Sì. Quando lì la fortuna... Veloce con le gambe ma la fortuna a volte curta. Dopo sono diventato capitano. I miei primi due che c'era già una tendenza verso di me. Perché hanno già capito su che cavallo giocare Pan Bianco e Ronchini che non erano gli ultimi due arrivati. Tanto è vero che sul Tourmalet, perché si arrivava subito dopo il Tourmalet, dopo 5-6 km di discesa, eravamo rimasto io morto a Pulidor. E Ronchini e Pan Bianco che era dietro con Van Loi, che mi vedeva ancora, mi ha fatto segno di attaccare. Perché Pan Bianco era uno che aveva tanta esperienza. Eh sì, aveva vinto un giro in Italia. Perciò era uno. Quando ti parlava lui... L'ho attaccato, vabbè, siamo scollinati insieme. Davanti a Menes, poi io morto a Pulidor. Solo che in disceso ho bucato. Ho perso qualche secondo, anche se sono rimasto da solo, però era abbastanza vicino all'arrivo. E ho mantenuto una maglia gialla e lì sono diventato il capitano. Caspita, lì è cambiato tutto. Poi portarlo però fino in fondo, un Tour de France del giro, non è stato facile. Sì, anche quello. Dopo, sai, tutti i giorni c'era la verifica di questo giovane che sempre lo sbaraglio, adesso salta, scoppia. Telefonava a casa ogni tanto per dire come sta, oppure ai contratti con Sedrina erano limitati? Beh, telefonava a casa, però lì dove aspettavo la sera dopo cena, andavi giù, infilavano il bussolotto dentro. Il bussolotto chiamavano. Capita una. Magari c'era solo quella di capita. Poi doveva fare la fila anche qui. Chiamavano a casa. Perchè anche adesso, parlo alle persone giovani che ci stanno seguendo, che il mondo è talmente cambiato che non ci si rende conto. Sì. Praticamente arrivano tutti i salvarani e non salvarani, il dottor Quarenghi che era un po' il dottore che mi seguiva. Bergamaschi, tutto Bergamaschi. E tutti per consolarmi, per dire, guarda, ormai quello che dovevi fare l'hai fatto, non sta lì a preoccuparti. Domani vada come vada. Io dico un momento, domani vediamo perché io ho vinto delle cronoscalate, eh. La mia carriera. Non è che ci credevano tanto gli altri. Gli altri un po' meno, ma io ho detto ho vinto la Villa del Messon Vigilio. Scusa, che non era proprio Pianura. Al Bondone, poi la Madonna del Sasso su verso Biella. Poi ho vinto la Varenna Esinolario, tutte cronoscalate. Varenna del Lago su Arina Esino. Quindi adesso, domani vediamo, io ho detto. E partiamo. Pulidor parte prima di me, naturalmente, perché è l'ultimo. E al primo controllo vedo meno 23. Cioè ero sotto di 23 secondi con le lavagne perché allora era mia. Non c'era telefono, cose. Tutte quelle storie lì. Allora do un dente in più. Do un dente in più. Perciò cambia il rapporto, no? Più duro. Più duro però si rompe. Perché avevo messo tre rapporti per la salita. Mi fa soffrire a me adesso. E due per la pianura. Allora un altro in più. Al direzione più ancora, che è ancora più dura da trascinare. Sì, secondo controllo pari. Già recuperati i 23 secondi. Terzo controllo più sette e l'arrivo più 33 mi sembro. E chissà che festa quando hai arrivato. Io ho pensato che potevo vincere. Felice noce. Io ho cominciato a pensare. Ma il Felice Gimondi di adesso, che ha qualche anno, ma quanti anni sono esattamente quest'anno? Troppi. 75. 75 anni. Quando va letto alla sera ripensa ancora tutte queste cose, prima di addormentarsi, oppure no? No, certo. Quando vedo, come ieri, Paris-Roubaix o quei paesaggi lì dove io ci ho messo la mia gioventù. Certo. Un po' di nostalgia. Li sento. Ma grande nostalgia non l'ho mai avuta. Scusi. Anche perché mi sono sempre fatto qualcos'altro. Perché subito ho fatto team manager della Bianchi. Della Bianchi. Poi della Bianchi Vegevi, Bianchi Campagnolo, San Montana Bianchi. Non hai mai fatto con le mani in mano? No, ho sempre stato... Però non ho fatto il tecnico perché volevo stare vicino alla mia famiglia. Cioè io sceglievo per dire vado tre giorni al sud. Tre giorni a metà giro e tre giorni sui Dolomiti. Le sue donne. Perché la moglie è tiziana, però anche le due figlie. Sì, ma soprattutto la moglie ha 19 anni. L'ho portata su Odiano Marina. Ci siamo sposati aveva 19 anni. L'ho portata via in Valbrembana. E lei quando tornava a casa cosa diceva? Stava bene in Valbrembana oppure... Sì, non si è mai lamentata. Però quando è venuta sua figlia in questo studio ci ha commosso la storia di amore raccontata dalla figlia rispetto ai genitori. Però anche in questo caso è una storia quasi da film. Come quando ha raccontato il tour. Perché non è facile trovare una donna che ci vuole bene, che ci si ama così tanto tempo, così in sintonia. Adesso sì. Io dico sempre che il 50% delle mie vittorie sono merito anche di mia moglie. Perché? Perché io telefonavo a casa la sera e lei c'era sempre. La serenità. C'era la che mi aspettava. Le figlie come stanno? Stanno bene? Mi dava tranquillità. Hai capito? E partire con tranquillità... È un altro discorso. È un giro d'Italia. Non è che potevi avere altri pensieri, anche investimenti. non ho mai fatto grossi investimenti fatti nelle case perché non potevo andare a comprare 24 ore. È certo. Prima di partire per vedere com'è andata l'azione. Ha capito? Certo. E perciò anche in quel caso non è mai mancato niente però cose concreti. Io avevo capito che la mia azienda, le mie gambe, basta. Quindi non dovevo essere distratto da altre cose. D'altro. Però anche in quel caso abbiamo avuto tentazioni perché ha conosciuto sua moglie molto giovane però è una persona famosa, credo che poi ha vissuto anche il mondo, quello che c'era. Però anche in quel caso sono fortunato di essere stato abbastanza... Sì. Cresciuto come suo padre e sua madre la faceva andare a presto. Io credo che certe cose fanno parte del DNA. Perciò per me andava bene lei e basta. Che bella cosa anche questa qua è un po' di politica, non solamente della formazione. L'ultima cosa che le chiedo riguarda la Gran Fondo. La Gran Fondo Gimondi viene presentata in queste ore. Ormai è un appuntamento, una classica è diventata. Anche in quel caso c'è ancora voglia di farla, ancora voglia di esserci. Beh tieni conto che è la ventunesima edizione quindi mi sento un po' più vecchio di quando ho cominciato. Però ho voglia di partecipare, di fare, di organizzare qualcosa a Bergamo. Perché tanta gente non sa quanto è bella Bergamo. È vero. E bisogna farla conoscere sempre di più secondo me. Noi dovremmo partecipare di più alle fiere del turismo per far capire che Bergamo... Quanto è bella Bergamo. È vero. È vero. E tieni conto che questo è servito moltissimo perché sia i percorsi che facciamo con Legallo, Selvino, la Valtaleggio, poi andiamo su alla Roncola, è uno più bello dell'altro. Sono bei posti. E chi ci viene se può ritorna. Vero eh. Credo che abbiamo avuto 72-73 paesi dall'Asia all'America al Giappone. Tant'è vero che l'anno scorso si era perso un giapponese. Si è perso un giapponese? Non lo trovavamo più. E dove era andato? Era andato su a... come si chiama? A posto di venire giù dalla Roncola, è andato sopra dove aveva la cava di talcementi. E caspita! Poi è andato giù di là verso l'Ecco. Solo che andare giù di là verso l'Ecco, c'è la discesa, come si chiama? C'è una discesa al 20% di calcementi. Caspita! Questo qui è arrivato in una curva. È andato dritto. Abbiamo trovato la sera alle 9 e mezzo all'ospedale di... all'ospedale di Lecco. L'ultimo giapponese in quel caso, come quali che si perdevano dopo la guerra mondiale. Avevamo avuto anche australiani, in un anno credo erano qui 20 australiani. Che bella cosa. Cioè è tutto. E c'è ancora voglia di farlo anche quello di con... Quando vengono a Bergamo, tante volte vengono anche con la moglie o con la famiglia e possono abbinare la nostra città. È una gran bella cosa. Che per me è una delle belle. È vero, perché è sempre affezionato per oggi il mondo a Bergamo. Ho girato il mondo, ha vinto tutto, però Bergamo... Ah, io quando tornavo dal tour, che oltre al tour facevo la tournée... E sei dopo. Stavo fuori magari 40 giorni, ma quando uscivo dall'autostrada ad Almine e vedevo sui profili di Bergamo e dice, sarà bello di chiedere la parole, è bello anche qui. Grazie mille allora, Felice Gimondi. Lo ringrazio davvero perché con il suo modo semplice... L'ho detto all'inizio, no? Quel sorriso che è disarmante. Già quando ero un bambino e facevo il tifoso mi colpiva. Adesso vederla dal vivo... Eh, ma in corsa non ero così. All'arrivo. 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 Allora era già un po' più gentile, no? Campione gentile in questo caso, però mi ricordo tutte le persone che l'hanno seguita e che ha fatto sognare che hanno partecipato con le sue vittorie. Perché lei era le sue le gambe, ma il cuore di tanti italiani che facevano il tifo. Perché era un campione che univa Felice Gimondi. A differenza di quelli del passato, perché Coppe, Bardali, Baldini, Nencini... C'è sempre stato Saroni e Moser. Invece, se ci pensa, un altro regolo di Gimondi in Italia non c'è stato. Perché Gimondi è vero che aveva Merckx contro. Però ha saputo unire gli italiani. C'è mai pensato? Ma io ho trovato quella bestia lì. E ho trovato quella bestia lì. Io quando parlo di lui dico... Cinque tour. Cinque giri. Sette Milano-San Remo. Cinque Liegi-Bastone-Liegi. Tre mondiali. A quel punto lì sa cosa dico... Ma va. Va bene. Grazie mille Felice Gimondi. In bocca al lupo per la Gran Fondo. Grazie. Complimenti ancora per la sua bella famiglia. Grazie a voi tre spettatori che ci avete seguito. Buona continuazione di serata sempre con Bergamo TV. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito.